bentornati amici oggi parliamo di composizione e partiamo con una cosa che non sono i terzi finalmente partiamo e io vi darò la mia visione che non è una regola ferrea al solo vi faccio vedere quello che spesso e come inquadro queste immagini uno dei tanti sistemi a dopo allora amici bentornati a un nuovo video oggi su richiesta di diverse persone durante questi ultimi mesi affrontiamo la prima puntata della composizione parleremo un attimo dei formati perché saperete che il formato dà la sensazione quindi cambia di molto l'impostazione della composizione corretta attenzione composizione corretta significa farsi capire dal proprio spettatore cercare di indirizzare lo sguardo e di far riflettere chiunque guardi le nostre immagini ma attenzione la prima cosa che va subito fatta è studiare ma dopo aver studiato farle proprie quindi molto immagini molto più personali riviste anche sbilanciate vedremo la simmetria più avanti le asimmetrie vedremo i terzi che non se ne può più però è importante saperlo e quindi la vedremo ho letto un'intervista un anno fa su un sito web di fotografia che non ricordo purtroppo molto carina al direttore della fotografia di star wars e diceva ah sì assolutamente la regola dei terzi io la uso è una cosa che deriva dalla pittura molto bella che palle ha ragione io personalmente la penso così bellissima però che palle andiamo avanti e oggi vediamo una cosa molto vicina ma non è la stessa cosa i miei rettangoli ed apriamo questa struttura poco usuale il mio rettangolo tre mezzi o due terzi a secondo la direzione che prende orizzontale o verticale lo dividiamo in un quadrato e il resto di un rettangolo sembra due terzi un terzo in realtà matematicamente deriva dalla regola aurea che però io onestamente non seguo sono sincero per me è quando metto l'occhio in macchina molto spesso non sempre molto spesso mi capita di vedere questo quadrato questo rettangolo in termini aurei ma solo per una questione di disposizione di spazi quindi ogni foto rettangolare che cerco di scattare ha sempre una foto a sé stante all'interno di un quadrato immaginario e il restante c'è un altro soggetto magari ovviamente secondario ma che aiuta a raccontare questa foto io vi lascio a questa piccola introduzione sui formati da non trascurare e poi vi faccio vedere tre quattro esempi veloci di quello che intendo ci vediamo la prossima settimana più in là vedremo altre puntate che appariranno ovviamente ogni volta su un argomento della composizione diverso grazie a tutti alla prossima ciao ciao allora quello che vedete qui è il formato più comune del mondo della fotografia sia la fotografia del passato sia la fotografia attuale ed è adesso chiamato full frame il rapporto dei lati è tre a due quando è orizzontale e naturalmente diventa due a tre quando è il rapporto verticale allora questo è il formato più famoso perché perché deriva da un progetto già degli anni mi sembra 1913 poi fu abbandonato perché nacque la prima guerra mondiale è ripreso solamente all'uscita della prima laica 1 nel 1925 è diventato un formato che all'inizio come tutte le cose nuove guardate il digitale guardate il sistema delle mirrorless eccetera fa ha creato polemiche in giro per il mondo perché era un formato troppo piccolo secondo molti e quindi poco qualitativo in realtà questo formato ha permesso 36 foto di seguito con un rullino a contrario poi del di maggiori formati dove i scatti erano sempre pochi pensate le lastre era uno scatto per volta quindi il 3 diciamo mezzi il rapporto e quindi il 35 mm chiamato anche 24 36 è diventato poi in realtà nel fotogiornalismo nei racconti di guerra eccetera anche alla portata di tutti come un formato piuttosto comune allora il formato invece 4 terzi deriva un po vi ricordate i televisori prima di questi che abbiamo noi adesso dentro casa e i monitor erano 4 terzi cioè rapporto lungo 4 rapporto d'altezza 3 ovviamente in verticale diventa 3 quarti è inutile che ve lo dica era il passato e sono da un lato a me non mi sono mai piaciuti ma ammetto che per esempio nel ritratto quando il 4 terzi viene messo verticale ha un rapporto diciamo testa spalle decisamente migliore del 3 mezzi poi noi ci facciamo tanto l'abitudine ma diciamo che l'inquadratura nel ritratto dei 4 terzi è decisamente più composta bene è più facile c'è meno aria quando si scatta in verticale e questo fa un ottimo rapporto naturalmente i file e molti sensori sono nati 4 terzi e tuttora i telefoni e alcune macchine micro 4 terzi si chiamano hanno questo rapporto diciamo un po più quadrato rispetto al tre mezzi un rapporto molto difficile che io però tuttora amo visto gli anni che ha usato il medio formato assenblad per quanto non è un inquadratura molto dinamica a me piaceva tantissimo il formato quadrato non è così facile da comporre o almeno apparentemente sì perché il centro è sicuramente la parte più di interesse di questo formato che è l'unico che non possiamo ruotare perché a tutti i lati uguali c'è chi dice che annoia in effetti secondo me a lungo termine può essere così ma tra diagonali eccetera secondo me il quadrato è bellissimo va un po diciamo limitato forse rispetto agli altri formati deriva da pellicole 120 quindi formato 120 quindi di medio formato è andato un po in disuso le macchine adesso non ha più senso proporre una macchina di questo formato perché naturalmente sia dal taglio 4 terzi che dal taglio tre mezzi è facilissimo esportare una foto quadrata e veniamo a un formato non del tutto fotografico sono i telefoni che hanno affacciato questo formato ma in realtà noi fotografi è un rarissimo che usiamo questo formato se non per il video quindi fa parte più della parte dei cineasti dei videomaker allora non è un rapporto fotografico ma ovviamente nel tempo la televisione e il si sono un po adattati con formati interescambiabili diciamo così anche se poi esiste per esempio il 21 decime che è ancora più stretto ma insomma in realtà il 16 noni ha preso il posto del 4 terzi nei televisori ai monitor del passato e quindi noi quando componiamo per il video facciamo diciamo dei piccoli crop perché l'immagine è più lunga del rapporto tre mezzi comunque un formato televisivo e adesso tra l'altro negli ultimi anni anche dei reel per chi non credo che esista nessuno ma per chi non lo sa il reel è il 9 sedicesimi cioè il 16 noni messo in verticale dove però io mamma mia lo odio perché è un formato che la composizione non viene valorizzata per niente anzi rimane pure piuttosto difficile per farla bella da vedere comunque naturalmente il mondo cambia e noi ci adigueremo sempre allora oggi partiamo con un dato alquanto insolito tutto il mondo della fotografia quando fa la prima puntata magari su youtube su altre cose nei blog la prima puntata sulla composizione fa i terzi che invece io devo dire la verità insomma mi hanno un po stufato vi dirò poi più avanti perché ovviamente li utilizzo perché è una è una composizione molto semplice ma allo stesso tempo piuttosto forte come energia visiva allora io oggi invece parto da un rapporto stranissimo del tre mezzi dove io sono particolarmente propenso non lo dico razionalmente quando metto l'occhio in macchina molto spesso il 70 per cento forse delle volte in quadro in maniera aurea attenzione il nautilus che state vedendo è una conchiglia su cui le proporzioni aure sono perfette devo dire la verità io ve l'ho proposto solo perché volevo accennarlo ma io non mi metto a pensare a questa spirale aurea non gli do molta retta io vado distinto e il rapporto che si crea con il nautilus è un rapporto visivo come vedete diciamo dove nel rettangolo tre mezzi si può tranquillamente ricavare un rapporto uno a uno quindi un quadrato e diciamo poco più di un terzo rettangolare sembra strano è un rapporto onestamente aureo inventato da fibonacci dal matematico pisano quindi il risultato di c questa lunga base è un a più un b e quindi un rapporto diciamo due terzi un terzo anche se matematicamente non è proprio così io però inquadro questa cosa perché all'interno di uno stesso fotogramma a me piace spesso quando posso inserisco molte volte istintivamente senza stare a ragionare due immagini separate ma che vivono insieme andiamo a vedere qualche esempio che vi ho preparato per capire quello che dico in maniera più facile e diretta allora questa è la prima immagine tra l'altro molto semplice che io vi ho caricato e vi faccio vedere come anche un'immagine così scontata e banale possa in realtà avere dei schemi ben precisi queste sono foto istintive che uno punta all'obiettivo e diciamo che anche qui ci sono due foto era proprio l'inizio di quello che volevo farvi vedere tra l'altro la nuvola reale quella riflessa nell'acqua danno un peso più sulla parte destra che vi dicevo aureo no questo rapporto aureo però in realtà io non ragiono mai con questa situazione ma il mio cervello si è abituato negli anni a molto spesso non sempre ma molto spesso dividendo questa prima parte che sia a destra o a sinistra del quadrato insieme a questo resto di rettangolo come vedete se voi togliete mentalmente le righe vedete che sono due immagini diverse ma nello stesso fotogramma ecco questo è una delle questa qui è una delle composizioni che utilizzo di più perché mentalmente sono predisposto e tra l'altro è molto vicino in alcuni casi e molte volte anche la regola dei terzi ma è un po più sbilanciata e a me piace molto devo essere onesto questo è il secondo caso già vedete che la composizione è fatta nella maniera aurea ma il colore contrasta e quindi già è disegnata da sé l'unico intervento insolito l'unico elemento che crea una diversità e secondo me da movimento a questa immagine sarebbe stata vuota sarebbe stata difficilissima senza soggetto la testa della ragazza è perfettamente alla metà dell'orizzonte del quadrato ma anche del rettangolo è stata una foso casuale ma come vedete già anche se io non mettessi questi bordi colorati già si capisce che è una composizione aurea in più diciamo a contrasto di colore non so se il termine è giusto ma insomma i colori già fanno la composizione da loro come vedete ecco il quadrato ed ecco il rettangolo la immagine che state vedendo è sovrapposta anche con i terzi che è più che giusto come vedete rientra anche nei terzi ecco un'altra immagine la terza che anche questa con un occhio già abituato a quello che abbiamo visto prima già la vediamo senza per forza mettere il risalto la grafica però si capisce bene ecco la parte principale la parte più pesante si dice che ha un peso maggiore rispetto al lato b eccolo qui e sono idealmente anche due foto totalmente diverse ora ovviamente lì è il riflesso della precedente ma come vedete la composizione di questa foto funziona perché ha questo rapporto di due terzi e un terzo era molto visibile già occhio nudo ma questo enfatizza naturalmente la grafica enfatizza il nostro pensiero sono foto molto facili ma didascaliche ma molto semplici da apprendere io per esempio quando metto l'occhio in macchina spesso sbilancio un pochettino i terzi e preferisco un quadrato e un rettangolo ovviamente non è sempre così prendetela sempre con le pinze questo è napoli un gatto e un ragazzo di napoli stavo entrando alla mostra di chagall non lo so due tre anni fa forse quattro e come vedete l'inquiratura è stata istintiva pensavo di fare i terzi e invece come vedete c'è questa parte di peso del gatto che poi si lancerà io l'ho fotografato ma non ho scelto quella foto lì e il rettangolo dove c'è lo spettatore il ragazzo che guarda il gatto non avendo capito cosa volesse fare perché il gatto camminava su questo cornicione naturalmente come vedete questo rapporto aureo funziona anche con l'intersecamento del i terzi sul gatto che è l'attore principale anche perché era in movimento rispetto al ragazzo che era fermo anche questa come vedete con la questione prima abbiamo visto di colori adesso la composizione in funzione della luce luce ed ombre questa parte luminosa che ha più peso sulla parte sinistra come vedete è particolarmente un quadrato anche qui e c'è un rettangolo di un terzo di fotogramma invece oscuro e più drammatico questo peso della destra sulla sinistra comunque fa sì che il fotogramma come ripeto sempre tre mezzi ha un rapporto che funziona in più ci sono queste linee sia delle ciminiere che vengono giù parallele al diciamo alla linea blu che vedete e secondo me la foto è abbastanza particolare inquietante visto l'inquinamento delle centrali ma si regge su questo contrasto chiaroscuro e questo formato quadrato e rettangolare allora questo è un elemento che io ho scattato mi sembra alla villa farnese ed è diciamo all'interno ci sono tutti i corridoi tondi come vedete già nasce anche con i terzi adatta questa linea mediana che è una colonna e come vedete il quadrato prende benissimo metà della colonna e la parte forse più gradevole da vedere perché ricca di intelaiature di affreschi di vari colori caldi e da metà colonna in a sinistra c'è questo rettangolo sempre vedete c'è sempre il rapporto quadrato rettangolo che qui diciamo per motivi di spessore della colonna è forse un po oscurato un po sacrificato ma in realtà se ci fosse stata una colonna molto più stretta sarebbe stato disegnato così proprio da l'architettura della villa anche se ovviamente come vedete il rapporto funziona benissimo c'è una parte principale quindi quella più grande formata dal quadrato è una parte aggiuntiva non vuota cioè non c'è lo spazio negativo ma c'è un minimo di spazio o anche questa la vedete già ormai abbiamo capito come funziona sarò velocissimo e finiamo come vedete anche qui c'è la parte luminosa adatta anche anche ai terzi c'è questa parte luminosa quasi quadrata eccola qui alla sinistra e racconta già una foto di sé legata ovviamente anche al terzo mancante lo ripeto anche se non è perfettamente ematicamente un terzo eccolo lì che la foto si compone bene devo ammettere che qui la forza forse sta più nel terzo dove la visione del fiore è reale mentre quella che vedevamo nel quadrato è la sua proiezione d'ombra insomma potrebbero essere come dire due stampe tagliate a metà che andrebbero bene come vedete la sommatoria del i terzi anche qui un pochettino un accenno quasi preciso è normale ricordo che la divisione dei terzi e della regolaurea si sposta leggermente infatti come vedete quando le sovrappongo si vede sempre un bordino più spesso perché il rapporto matematico si differenzia di poco ma si differenzia allora questa penso sia l'ultima foto di questo rapporto di composizione e al di là di questa foto di questa sedia arancione che mi colpì tantissimo che sta sul primo terzo come vedete dei proprio dei terzi io l'ho guardata in maniera diversa e cioè ve ne accorgete da soli i due negozi adiacenti sono divisi quasi da un quadrato perché quello a sinistra è leggermente più largo e per me la composizione era quadrato quadrato a sinistra e il secondo negozio si prende una fetta più stretta ma ho valorizzato comunque il fatto delle persone quasi quasi potrebbe essere anche una triangolazione sedia arancione e i due personaggi uno di nuca e uno da davanti la foto racconta due attività commerciali uguali ma adiacenti quindi concorrenti con questo taglio dove quella di sinistra un po più di peso perché il negozio era più largo ok io vi ringrazio e ci sentiamo in un'altra puntata mi la fa 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 mi in chi no Grazie a tutti.